L'ho registrato un giorno in giorno un crescendo costante di consenso e di attenzione nei confronti della nostra condizione. Infatti il risultato del secondo turno ci premia ulteriormente, era stato già importante e significativo il primato conquistato durante l'esito dell'elezione del primo turno, oggi noi si conferma e si incrementa e quindi si consolida la scelta della città di premiare questa nostra coalizione. Credo che sia stato determinante la volontà della città di tornare alla politica attraverso i partiti, rispetto ad un civismo che si è lavorato nel corso degli anni e che dovrebbe essere un fenomeno temporalmente circoscritto, invece si protrae da un po' di tempo. Sindaco, quale emozione adesso, in questo momento a caldo della vittoria, strette di mano, rintisi, festeggiamenti, poi come ha dichiarato proprio anche nella diretta di oggi pomeriggio, poi da domani mattina tutti al lavoro, subito dopo la proclamazione, insomma, seguendo comunque quella che è la procedura di legge. Intanto l'emozione è grandissima perché io sono varcato a questo portone per la prima volta 25 anni per consigliere comunale, ne sono passati diversi anni, quindi l'emozione è ancora più forte adesso perché è anche il ricordo delle stagioni trascorse. Certo, da domani dopo la proclamazione ci dovremmo mettere all'opera perché, come ho detto in un'assemblea pubblica di qualche minuto fa, noi abbiamo contratto un debito di riconoscenza nei confronti della città e dovremmo essere all'altezza della situazione.